Il lungomare di Pesaro, il piazzale della libertà e la palla del pomodoro si popoleranno per tre giorni di numerosi professionisti appassionati di cucina e fornelli. Da venerdì 29 a domenica 31 luglio torna la sesta edizione di Pesaro Food Festival, un grande evento dedicato al variegato mondo dello street food nazionale e regionale in versione gourmet. Finalmente ripartono i street food del cibo di strada, comunque quest'anno questa associazione che ha voluto incrementare e anche valorizzare di più il cibo del nostro territorio è un valore aggiunto per questo evento. Chiaramente il covid ha fermato quindi c'è una ripartenza, una ripartenza devo dire alla grande perché hanno coinvolto tantissimi attori del nostro territorio, poi insomma ci sarà anche una nutrizionista quindi sarà un evento molto bello da vedere anche per l'educazione alimentare ma nello stesso tempo anche il divertimento e poi la location è bellissima perché insomma siamo in piazzale della libertà e sarà un'opportunità anche per i turisti non solo i cittadini pesaresi. Un programma intenso a partire da venerdì alle 18 con tantissimi chef, abbiamo ogni giorno uno chef diverso, maestri pizzaioli, bartender, anche donne bartender e tanti maestri pizzaioli come dicevo prima, maestri pasticceri. Avremo Andrea Madei del programma di Radio dei Cantri che sarà il nostro conduttore così come dalla prima edizione, abbiamo tantissimi chef anche dal calibro di Daniele Patti quindi comunque chef pesarese del ristorante Lo Scudiero, poi abbiamo il venerdì anche Mariano Guardianelli di Abocard 2 Cucine di Rimini, abbiamo Fabio Rocco della Napiz quindi di questa catena di pizzaioli di Rimini molto famoso perché comunque abbiamo come sponsor i tal forni, quest'anno presenteremo un forno proprio dedicato ai pizzaioli quindi che si chiama Caruso, molto bello di design e quindi abbiamo piacere insomma di avere al nostro evento anche tanti pizzaioli. Poi abbiamo anche la domenica che è una giornata molto intensa, oltre a Daniele Patti abbiamo anche Davide Di Fabio del ristorante La Gioconda di Gabicce Monte, poi abbiamo Roberto Dormicchi di Triglia di Bosco e poi abbiamo Luca Zanchetti dell'Osteria Zanchetti di Fossombrone, Marco Vegliò del ristorante Il Galeone di Fano, poi abbiamo Giuliano Pedicone, chef panificatore che anche lui dalle prime edizioni è sempre stato comunque presente, Paolo Staccoli della famosa pasticceria di Cattolica e tanti altri, non ve li svelo tutti perché poi comunque il programma è veramente intenso quindi vi aspetto il 29, il 30 e il 31 luglio.